...tanto il cuore... Ti va di bere qualcosa? Ma dici, sul serio o cerchi solo di cambiare argomento? No, dico sul serio. Io bevo, tu bevi. E quindi potremo farlo insieme. Allo stesso tavolo. E se mangi, faremo anche questo. Beh, se la risposta è no, non importa. No, è solo che... Tu hai subito da poco un intervento e non sei ancora te stesso. E poi lavoro per te e anche se nell'ultimo anno sei... Tu stai sorridendo. Rifiuto il tuo invito e sorridi. Ah, non te la prendere a male. Volevo solo metterti alla prova. Non hai nessuna voglia di uscire con me. L'avevi quando non potevo camminare. Ero un cucciolo malato che potevi accudire con affetto. Ora che sto bene, cosa hai da guadagnarci? Tu non stai ancora bene. La Caddy vuole vederti.